Ciao a tutti ragazzi, ignorate che sono in pigiano perché no, c'è il fondo, ho visto che ho controllato adesso una notifica che un youtuber che stavo guardando prima, che si chiama Giugatto, se volete andatelo a seguire, che è su YouTube, si è iscritto al mio canale, io lo ringrazio e inviato anche un commento sul video di Alphabet Lore che ha fatto la reaction, quindi era un video breve così a caso. Quindi vi ringrazio se hai seguito, se volete, vi ringrazio Giugatto, come si chiami, non lo so, comunque ciao, un salutone.